è la vita americana quella lì e quella velenosa pure dai che siamo arrivati marchino su camminare e non è questo non è questo è di qua non è questo quello difficoltoso quello difficoltoso è creare quello sulla in alto sasso vedi che me lo ricordavo sasso sulla dobbiamo passare marco guarda bene scommettiamo quello che vuoi che arriviamo fino a la passando da dentro lì facciamo il pezzetto e passiamo sopra e raccordiamo sotto l'anello della strega qua marco di chi di qua adesso non me lo ricordo ce n'è un altro lì dentro che è meglio di questo e scendi che arriviamo e lì vedi dov'è però lì dov'è dovevamo chiudere subito lì sopra perché non passiamo